Sì, questo è il mio corretto, è il mio corretto, è un'applicazione di uno nuovo amico, un quarto d'incorso, un tutto, un altro, un bel bel fuori. Sì, sediamo, vediamo l'unità di benciare, e posso vedere anche il mio show a cui non c'è. E' la tua vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.